Siamo al passo dello Stelvio, ma hanno messo la sbarra, è chiuso, però comunque è molto accessibile, non ce n'è molta neve, tranne forse più alte, il Gisela è rampicato, il Gip, tutto bianco oggi, panni vecchi e panni nuovi, mega gallerie là, bellissimo, qui c'è il parcheggio, il parcheggio dei famosi bagni vecchi di Borneo,